Dopo che hanno cambiato la viabilità, in tre mesi sono quattro volte che buttano giù l'angolo di casa. Io non so più cosa fare. Perché lo buttano giù? Chi lo butta giù? Perché vengono su dei camion in questa prima strada, dei camion grossi e tentano di girare qui. Perché incontrano il divieto? Incontrano il divieto, non possono continuare per la prima strada fino a su in cima. Quindi arrivano dalla zona industriale e girano qui? Alla zona industriale, o sbagliano perché in fondo al paese non c'è una segnalettica giusta che certi camion non possono venire su. E di conseguenza io sono costretta che quando li vedo io o altre persone o li facciano tornare indietro e girare per la via quella lì, oppure continuare a far fare il divieto fino in cima alla strada. Il cartello c'è all'inizio della frazione di Bellocchi venendo dalla zona industriale e imboccando via prima strada. E lì ben visibile il divieto di transito ai mezzi superiori alle 5 tonnellate. Ma pare che, soprattutto di notte, anche camion di stazza superiore per raggiungere la Flaminia passino di qua. Una volta era doppio senso e tutto dritto, ora dopo 500 metri c'è il nuovo senso unico e si svolta a destra, ma il raggio della curva è troppo stretto per i bisonti della strada. E così a farne le spese è lo spigolo della casa della signora. Però tutto quello che succede, io mi accorgo sempre, o di notte, purtroppo io lavoro, o quando torno dal lavoro, quindi non so chi è stato, è comunque dal fatto che è un camion, perché si vede effettivamente che sono stanca di pagare il muratore in tre mesi perché mi putano giù l'angolo di casa mia. La protezione c'è ma la portano via. La protezione c'è ma... La protezione c'è ma la portano via.